Grazie Deralina, Salvatore Marino, vere informazioni, articolo 21, siamo con Lucia De Meo presso l'associazione Antonio De Meo Onus di Castelli Lama. Grazie Lucia per aver accettato la nostra intervista. Grazie a voi del vostro pensiero che avete avuto verso la nostra associazione, che fa piacere che ogni tanto qualcuno ci viene a trovare anche per far sentire agli altri che ci siamo. Ecco, le faccio subito la prima domanda, Lucia ci diamo le lei perché siamo in televisione, perché avete voluto aprire questa associazione? Ecco, questa associazione è nata dovuta al nostro figlio Antonio che nel 2009 purtroppo quattro rom l'hanno presa a botte per una bicicletta e dopodiché della sua partenza, diciamo dal lungo viaggio, ecco abbiamo scoperto che lui aiutava delle famiglie a Bologna e così vogliamo continuare anche noi del cammino che lui aveva iniziato. Ecco, allora le faccio subito la seconda domanda, aiutare le persone bisognose vi dà la forza dopo la perdita di vostro figlio Antonio? Sì, questo è vero, ci aiuta ad andare avanti perché cerchiamo di stare in mezzo alle persone purché di non stare lì a casa da soli e pensare e non voglio fare la stessa fine di tante famiglie che purtroppo con grande dolore si finiscono a finire su un divano eccetera eccetera ecco, io voglio stare in mezzo alle persone e aiutare le famiglie. Ecco, che cosa significa quando lei guarda la televisione e ascolta questi messaggi, queste notizie brutte tipo del ragazzo a Lanciano che è stato malmenato dai Rom? Ecco, proprio oggi sentendo questa notizia mi ha fatto tanto male perché vedevo la stessa cosa di nostro figlio Antonio che anche lui da quattro Rom purtroppo per un futuro motivo è stato picchiato a botte perché loro volevano a tutti i costi la sua bicicletta. Ecco, un'altra domanda che mi esce spontanea, ma secondo lei la giustizia italiana funziona sì o no? No, secondo me no, guarda, noi sono 11 anni che nostro figlio non c'è più ma noi giustizia terrena non l'abbiamo avuta e voglio dire questo, abbiamo avuto giustizia due anni fa che all'epoca il 13enne che non era imputabile è stato lasciato libero. Due anni fa, guarda caso, per un lite tra un suo amico e via di cento è stato fatto fuori perché loro agiscono in questo modo, loro agiscono a gruppo perché sono dei veri conigli. Quindi bisogna anche più dei bulli penso, no? Sì, come no? Di più, di più. Ecco, facciamo l'ultima domanda a Lucia. Antonio è stato sempre un ragazzo che aiutava tutti, infatti aiutava tante persone come abbiamo detto prima a Bologna. Sì, infatti io ho scoperto questa cosa che non sapevo nulla, che lui aiutava delle famiglie che problematemente diciamo si sono trovati in difficoltà e lui gli andava a fare la spesa. Guarda caso, lui quando veniva a casa mi cercava dei soldini per andare a fare la spesa per queste famiglie, non sapendo il perché. Dopo ho scoperto per caso che mi chiamarono queste famiglie per sapere di Antonio. Quando io gli ho detto il motivo che Antonio purtroppo era successo quello che era successo, ho voluto aprire anche io un'associazione con il suo nome, Antonio De Meo, perché ci fa sentire vivi anche a noi. Quindi per chi vuole venire a dare una mano all'associazione o alle famiglie bisognose naturalmente di Castel di Lama, come possono fare per mettersi in contatto con l'Elucia? Ecco, noi abbiamo aperto nel 2012, ad oggi abbiamo 98 famiglie che diamo sia alimenti che vestiti. Quindi, niente, basta informarsi che lì al comune di Castel di Lama e via, cioè serve l'ISE, lo stato di famiglia e la carta identità e poi via. Ecco, per articolo 21, vera informazione, Salvatore Marino, abbiamo intervistato la signora Lucia De Meo, restituisco la linea in studio, sicuramente torneremo su questo argomento, rimanete sempre centralizzate, la Stefano Cappone è tutto, grazie e arrivederci a te Lucia. Grazie a voi che ci avete ricordato in questo modo, fa piacere. Grazie Stefano.